Credo che tutti noi portiamo nel cuore il grande desiderio della pace, conosciamo la situazione drammatica che si sta svolgendo qui vicino a noi. Credo che ciascuno di noi possa contribuire alla pace facendo proprio il desiderio di metterla in atto lì nei luoghi in cui viviamo, per cui nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, il poco che possiamo fare dove viviamo certamente tornerà a beneficio di tante invocazioni a favore della pace. Una pace che passa dalle piccole azioni concrete del quotidiano, solo così possiamo aspirare alla pace tra i popoli. Il messaggio del Rettore della Basilica del Santo, Padre Antonio Ramine, in occasione della Pasqua, ne invita i padovani a perseguire con i gesti quotidiani uno dei beni più importanti. In questi giorni di celebrazioni pasquali la Basilica ha accolto tantissimi fedeli, in attesa e con la speranza che dopo due anni di pandemia si possa tornare a vivere in presenza la processione del Santo, tanto attesa il prossimo 13 giugno. Speriamo che questo orientamento ad una riapertura possa proseguire con serenità.